al salone del libro di torino ho avuto la possibilità di ascoltare un incontro con antonio sellerio sapete la casa editrice che è diventata famosissima in realtà possiamo dire in tutta europa con la pubblicazione della serie di montalbano di andrea camilleri devo dire che antonio sellerio ha detto delle cose molto molto interessanti su ciò che dovrebbe fare un buon editore allora io penso che le riflessioni che farò all'interno di questo video subito dopo la sigla possano essere anche di vostro interesse e poi rimanete comunque fino alla fine di questo video perché dirò delle cose che possa che potranno essere probabilmente a vostro favore di vostro interesse di vostra utilità insomma rimanete ma innanzitutto andiamo con la sigla allora sempre che la voce mi regga perché con questo clima che c'è in questo periodo devo dire che la voce è la prima cosa che se ne sta andando e fatalità sto registrando molti video e quindi mi trovo nella situazione nella condizione di dover parlare molto spero di riuscire a dirvi senza che la voce mi cali tutto quello che vorrei dirvi non sono tantissimi concetti però iniziamo allora innanzitutto riflettiamo sul catalogo di un editore in che modo si caratterizza il catalogo di un editore che non voglia pubblicare per forza diciamo libri assolutamente commerciali estremamente commerciali cioè un editore che non voglia piegarsi tutto verso il commercio ma che voglia mantenere aperta quella porta alla qualità alla cultura ad un livello insomma medio alto che permetta allo stesso tempo anche di scoprire nuovi talenti e quindi di pubblicare nuovi autori senza per forza ricercare la cassetta il guadagno immediato e facile se l'erio ha risposto proprio a questo tipo di interrogativi e devo dire anche che è stato molto bravo a destreggiarsi tra le domande un po tra bocchetto ma devo dire anche un po antipatiche che continuava a fare la intervistatrice della quale adesso io non mi ricordo il nome ma che era una tipa devo dirlo scusatemi piuttosto insopportabile allora se l'erio ha messo in luce come un editore stia a cavallo di due dimensioni differenti perché da un lato c'è la attualità della novità cioè cosa significa significa che ci possono essere temi di attualità che l'editore potrebbe sfruttare potrebbe utilizzare ma c'è anche un'attualità della novità dell'autore da inserire in catalogo cioè scoprire nuovi talenti scoprire nuovi autori e quindi rinnovarsi però d'altro canto se l'erio ha messo anche in luce come sia necessario confermare il catalogo cioè una casa editrice si fa conoscere attraverso il suo catalogo quando voi volete proporre un libro un romanzo un saggio ad una casa editrice dovete informarvi molto bene su quello che quella casa editrice ha pubblicato in passato perché le sue pubblicazioni passate danno in qualche modo la linea in là no alla casa editrice stessa quindi voi dovete effettivamente sondare il terreno prima di rivolgervi ad una casa editrice ma avere un catalogo forte cioè quindi un catalogo importante con titoli significativi con autori significativi è l'auspicio migliore che si possa fare a un editore ma allora seguire la linea editoriale della casa editrice cioè seguire la tipologia di pubblicazioni che l'editore ha pubblicato fino a quel momento va bene però un catalogo di una casa editrice seria che voglia fare ricerca dovrebbe avere in teoria dentro di sé anche tutti quegli elementi di mutazione possibile che fanno evolvere la casa editrice cioè una casa editrice non dovrebbe fossilizzarsi su una tipologia su un approccio unico ma dovrebbe poter evolvere dovrebbe poter mutare e questi semi di mutazione dovrebbero essere già impliciti all'interno anche dei titoli precedenti in qualche modo e allora la linea generale della casa editrice diceva sellerio deve essere un riferimento generale no perché l'editore è un riferimento per i lettori cioè i lettori comprano da quella casa editrice titoli pubblicati da quella casa editrice perché sanno più o meno che cosa trovano no però da questo punto di vista la linea è certamente importante ma non deve diventare una gabbia cosa vuol dire che non deve diventare una gabbia vuol dire che l'editore deve essere sempre pronto a non farsi scappare i piatti ghiotti no a non farsi sfuggire le occasioni buone e quindi non deve lasciarsi sfuggire la scoperta di nuovi autori che magari cambiano modificano il dna di quella casa editrice però sempre innestandosi sulla sua tradizione poi un altro aspetto che sellerio ha messo in luce è quello dell'autore ingombrante cosa vuol dire questo questo è molto interessante perché provate a pensare a camilleri no per l'appunto cosa ha significato camilleri per cosa ha significato si camilleri per la sellerio camilleri è capitato alla sellerio nel momento in cui la sellerio era in gravi difficoltà economiche rischiava di chiudere una volta per sempre e in qualche modo camilleri la scoperta di camilleri ha ovviamente portato una marea di denari all'interno delle casse della sellerio e quindi camilleri stesso scherzava no vedendo il successo che aveva dicendo per la sellerio che era arrivato il settimo cavalleggeri no ma in seguito però camilleri è diventato dunque il punto di riferimento per una certa tipologia di lettori che ovviamente cercavano da sellerio esattamente quel tipo di romanzo ma allora la domanda è gli altri scrittori che pubblicavano con sellerio si sono sentiti in qualche modo messi da parte hanno sentito un soffocamento progressivo per la presenza ingombrante di camilleri cioè camilleri ha venduto milioni di copie in tutto il mondo è stato tradotto decine e decine di lingue in tutto il mondo vero e però la sellerio è sempre rimasta una casa editrice tra il piccolo e il medio quindi come la mettiamo allora gli altri autori hanno avuto il loro spazio ebbene sì perché gli altri scrittori pensavano che camilleri fosse comunque un punto di riferimento utile e necessario anche proprio per i loro romanzi per quale motivo perché in realtà camilleri si portava dietro tutta la filiera potremmo dire e questo è l'effetto che fa un grande autore oppure un autore che vende tanto nel momento in cui nel momento in cui anche altri cominciano a pubblicare titoli che potrebbero essere assimilati ai suoi titoli per tematica per argomento e questo è importante da considerare perché sono mutata mutandis le problematiche che sorgono anche in altri ambiti in generi differenti pensate al fantasy nel periodo della della in cui licia troisi aveva avuto il grande expluano nel primo decennio del 2000 in realtà lei faceva da traino un po per tutta la narrativa fantasy anche degli altri editori perché vendeva così tanto ed era così conosciuta che faceva da traino quindi non bisogna avere paura dei grandi autori presenti all'interno di piccole case editrici o di medie case editrici perché comunque non soffocano lo spazio che dovrebbe essere destinato anche agli altri autori e poi c'è anche il tema della perifericità della casa editrice per quale motivo perché sellerio è una casa editrice di palermo no mio padre mi raccontava che lui vedeva sempre le pubblicazioni della sellerio che venivano veicolate dalla libre dalle librerie flaccovio perché flaccovio che poi diventato un editore successivamente aveva iniziato con delle librerie che teneva per esempio i libri pubblicati da sellerio lui si ricordava di questa cosa poi sellerio ovviamente ha cominciato ad avere anche una spinta autonoma propria e dunque a avere anche le proprie librerie ma in ogni caso sellerio è un editore periferico perché sta a palermo e palermo non è certo né roma né milano per quanto sia una grande città allora antonio sellerio ha risposto che innanzitutto ci sono dei vantaggi e degli svantaggi no per l'essere periferico i vantaggi quali sono sono che un editore periferico può pensarsi in modo differente rispetto alle altre case editrici e qui dunque sta l'importanza dello scoprire le proprie caratteristiche che lo rendono diverso da tutti gli altri editori allora ecco che un editore indipendente perché questa è la tipologia degli editori indipendenti ha delle caratteristiche che voi dovete scoprire nel momento in cui vi rivolgete a quell'editore non potete proporgli dei titoli che siano totalmente caratteristiche caratterizzanti altre case editrici e non quella alla quale vi state riferendo ma in secondo luogo poi una casa editrice periferica è obbligata a trovare una propria via di promozione soprattutto no e allora provate a pensare a questo vale anche per i piccoli editori provate a pensare al lavoro che sta facendo a b editore con le copertine dei suoi bellissimi romanzi no ha puntato molto sull'aspetto grafico sia interno che esterno a quei libri e dunque è riuscito a ritagliarsi una propria strada perché ha trovato una via propria la stessa cosa è valsa anche per sellerio provate a pensare alle copertine iconiche no di sellerio queste copertine blu con un quadro un dipinto al centro e sono diventati ormai delle copertine iconiche un po come quelle per esempio di inaudi che sono tutte bianche solitamente però gli svantaggi quali sono perché ci sono ovviamente anche gli svantaggi per essere periferici potrebbe essere lo svantaggio principale quello di essere meno esposti al grande traffico di incontri che in realtà è possibile per una casa editrice che si trovi a roma o a milano però attenzione è vero è vero che c'è un minor traffico di incontri però innanzitutto palermo è comunque una città importante e anche una vivacissima vita vivacissima vita scusate la ripetizione culturale no quindi palermo non è l'ultima città del mondo in quanto a vita culturale per esempio verona non ha tutta questa vita culturale da un punto di vista letterario mentre invece palermo si ma poi oggi i mezzi comunicativi online ma non soltanto sopperiscono a questa mancanza e quindi in realtà questo la problematicità della dell'essere periferici rispetto alla vita editoriale di roma o di milano ormai passa in secondo in secondo piano non bisogna pensare che sia un problema certo che nel momento in cui ti rivolgi ad una casa editrice di grandezza piccola o media devi comunque capire qual è il suo modo di stare all'interno del mercato editoriale e dunque quanto effettivamente riesca a farsi notare all'interno di questo panorama e poi c'è il tema credibilità e affidabilità no dei dei testi che sono la cosa più importante di una casa editrice cioè guardate quale tipologia di testi vengono pubblicati perché se vengono pubblicati per lo più testi che ne so di veline o di calciatori ma non lo so forse se voi tendete a pubblicare un romanzo di spessore profondo magari non è la casa editrice più adatta per voi guardate questa cosa questo problema l'ho vissuto io quando per esempio pubblicato Geshoahol e se viaggio nel masso verde cioè la prima edizione per l'appunto pubblicata dall'età dell'acquario del gruppo Lindau io mi dicevo beh gruppo Lindau è importante ed effettivamente era importante però aveva inserito all'interno il mio titolo all'interno del catalogo di l'età dell'acquario l'età dell'acquario vendeva soprattutto libri alternativi oppure di pulizia dell'intestino attraverso i bagni depurativi io non mi sono non mi ero soffermato all'epoca parliamo del 2008 non mi ero soffermato su questo aspetto perché io non sapevo che si dovesse fare attenzione a questi aspetti e quindi sono passato attraverso tanti errori che però ho accumulato ho accumulato e ho fatto fruttare per una maggior consapevolezza anche per spenderla a vostro favore e allora ecco che per tutti voi che siete arrivati alla fine di questa di questo video voglio regalarvi anche un suggerimento e lo faccio attraverso il mio sito no di albero del mistero punto com andate su albero del mistero punto com e vi troverete in questa pagina che è la home se voi andate sui servizi vedete che si apre una tendina e ci sono diversi percorsi all'interno di questi servizi c'è la possibilità di crearsi il proprio percorso personale di avviare il motore della scrittura con un corso che è composto da lezioni estratte da tutte le tre parti del grande corso il mistero della scrittura ma ad un prezzo inferiore quindi provate a scoprirlo ma non è questo ciò di cui vi voglio parlare oggi poi c'è appunto il grande corso il mistero della scrittura no oltre 35 ore di lezione ma poi ci sono i mini corsi di scrittura ed è questo ciò di cui vi voglio parlare in modo particolare vi voglio parlare vedete qui come rivolgersi alle case editrici allora io clicco qui perché voglio mostrarvi che questo corso in realtà è qualche cosa che potrebbe assolutamente fare al caso vostro come rivolgersi alle case editrici è un corso di oltre due ore che si concentra in modo specifico per l'appunto proprio sulla preparazione del romanzo affinché il manoscritto che spedisce all'editore o all'agente letterario sia completo di tutto ciò che è necessario allora lo scopo qual è quello di conoscere il mondo editoriale e di organizzare al meglio le tue risorse guarda ti faccio notare che costa pochissimo costa soltanto 40 euro e ci sono sei tra lezioni e casi studio questo video corso ti darà in realtà una marcia in più per riuscire a gestire dei metodi proprio di per rivolgersi alle case editrici quali sono gli interrogativi ai quali il corso risponde sono questi che sono messi in evidenza qui vedi non sai proprio come scegliere l'editore per te più adatto e cosa presentargli ti chiedi quale sia il miglior approccio possibile per proporre il tuo libro i dubbi riguardanti il mondo editoriale ti assillano e ti viene male solo a pensarci cosa che succede a molti continui a ricevere rifiuti e gli editori o gli agenti letterari ti sembrano un mondo lontano e allora se queste sono le domande che ti caratterizzano questo è il corso che fa per te guarda queste sono le lezioni per esempio il mondo dell'editoria poi analisi dei generi letterari più frequentati e individuazione del target caso studio i generi preferiti in rete poi preparazione del manoscritto per l'editore come preparare al meglio il tuo manoscritto per proporlo all'editore o agli agenti letterari creazione della proposta editoriale ti guiderò mano nella mano passo per passo e poi il sano realismo necessario acquistando però questo corso lo ripeto a 40 euro vedi c'è scritto qui che puoi pagare con paypal oppure con la carta di credito oppure tramite un bonifico bancario io ti seguirò dall'inizio alla fine cioè non è che il lavoro che tu fai con me per rivolgerti ad una casa editrice imparando attraverso questo corso si blocchi a ciò che io dico all'interno di queste lezioni tu avrai un dialogo costante con me continuerai a scrivermi entrerai in contatto con me e io continuerò a darti suggerimenti in modo da accompagnarti proprio anche eventualmente con le case editrici io non sono un agente letterario quindi non è che ti aiuterò a trovare una casa editrice ma ti aiuterò a sviluppare tutto ciò che è necessario sviluppare per accompagnarti fino a quel punto ecco spero quindi di averti dato un ulteriore strumento utile per fare questo passo che in realtà vogliamo fare tutti noi no che ci poniamo alla scrittura dimmi insomma che cosa ne pensi di questo video ti invito ancora una volta su alberodelmistero.com iscriviti anche alla mailing list per essere sempre aggiornato e noi ci rivediamo al nostro prossimo video ciao a tutti